musica 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 denti ma 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 rare salve questo l'ho colpito però niente lo si cazza signore musica 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 è in affanno ehm signora c'è stato di fortuna sul lavoro e ovviamente io non c'entro nulla non si vede un cazzo oh merda non ma non 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 Oh, ho una pistola Cosa fa? Oh! Eeeh Oh! Ci piglia per il culo questo, eh Che c'è? Eh, Kevin, arriva qua, raccoglie le pietre Che ci sono già qua in terra, fa un giro Con le pietre in mano e riporta sempre le stesse Al volo! Full! Oh, 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 here I come Oh, here I come Ah, caracca Cazzo, no Bellissimo, Franco Clippa Ok Questo mi sa che se lo andi a fanculo in italiano ti calisce Eeeh Ho visto Qualcuno segarsi sul tavolo Cioè, essere segato sul tavolo Eeeh, essere tagliato con una sega sul tavolo Quale tavolo nella sigheria? Eeeh Eeeh, vai Ma? Senti che rumori brutti fa Mi hai messo un libro Ti sta incazzando come una bestia E stai finendo i chiodi, basta Perfetto 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 Abba Abba dai ma non si può andare avanti così vedi cavallo serve frank e guarda è morto a 90 è morto a 90 se lei non come becca se lei non è presente come una volta un cicchiale volante un cicchiale volante è finita e niente cicchiali volano 2023 cicchiali volano aspetta ci vuole è finita da un'ora più o meno che palle amore che scena incredibile è stronto basta non ci molla più è finita è finita david chiudi la porta zitto no mi ha preso tutte ste manifestazioni eh non lo so sarà qualche show però sofia benson manifesto oh sofia che è successo è stato male il braccio sinistro aspetta è buono dai è buono è buono aspetta che lo imbocco un attimo se si faccia faccia buono non mi fido meno male che l'ho visto prima vai apri sta cazzo di porta ma non si apre vediamo che cazzo di racconto basta a culo ah dio che spavento porca madonna vecchia con la coppola lì dio che farto cazzo era sicuro che era questo simbolo? si dai è palese quello no 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 non vedo un cazzo ti posso dare un appagaiato in fronte è pagaria però cosa fai? cosa devo fare? andiamo arriva qua c'è lo squalo come faccio a salire? c'è dietro c'è lì mi sto facendo giù ahia ma morso da sopra veloce pagaria sono salito tutto duro vai pagaria bisogna dire pagaria grazie a tutti grazie a tutti